ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi anche oggi video bomba ragazzi oggi voglio parlare di lui ragazzi come avete letto dal titolo ragazzi è un altro pannello solare fotovoltaico ripiegabile ci appoggiamo qui sul fratello maggiore e andiamo ad aprire oggi e mostrarvi invece un pannello solare ripiegabile ok però più piccolino di dimensione più ridotte di potenza inferiore però ragazzi per un uso meno professionale ok per un uso diciamo più leggero più soft ragazzi eccolo qui vi presento al powers pannello solare eccolo qui in mono cristallino cambiano anche i colori questo ha questa diciamo bordatura in verde fosforescente ottimo anche per la notte ragazzi e qui c'è il pannello aperto questo ragazzi è il nostro pannello solare aperto nella parte posteriore abbiamo i gancetti ok se vuoi legarlo con una corda per esempio al fianco della roulotte al sul tetto per esempio della barca abbiamo una due tre e quattro boccole ecco dove si andrà a mettere poi la vera e propria corda di supporto in corretto ci danno i cavi perché ragazzi anche questo è un pannello con mc4 anche questo belle prestazioni ci danno qui il cavo mc4 jack diciamo connettore 5 mm quello standard ecco di alimentazione e ce ne danno ancora un altro mc4 che va a finire come va a finire innesto 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 si questo è un innesto compatibile giustamente con i loro power wall c'è anche in confezione questo set di connettori ok che ti permette appunto di utilizzare il pannello con vari utilizzatori in base al tuo connettore cambi metti quello che ci entra mantenendo sempre positivo negativo ovviamente nella polarità corretta perché sennò ragazzi bruciamo tutto c'è anche in corretto il manuale di istruzioni sulla parte posteriore ok qui ci sono i supporti ok questo è la parte posteriore supporto 1 e supporto 2 che tiri con questa strappo e appoggi a terra e lo stesso discorso lo facevamo con il fratello maggiore e dove posso utilizzare questi ragazzi questi vanno più che bene per l'uso portatile vi leggo le le caratteristiche anche questo può essere connesso in serie in parallelo perciò puoi acquistarne due e connetterle in parallelo per far aumentare l'amperaggio o in serie per far aumentare il voltaggio e mantenere un amperaggio e diciamo da dato di targa fisso ecco caratteristiche 22 volt e 4 come voc 100 watt perciò ragazzi questo è il 100 watt quello che abbiamo visto in recensione lo scorso video il 400 watt voc perciò tensione di circuito aperto 22,4 volt corrente di cortocircuito 6 ampere massima di max power voltage di mp 18 volt e max power current 5.4 ampere solar energy conversion cioè l'efficienza dell'efficienza 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 della conversione da energia solare energia elettrica dal 19 al 22 per cento può funzionare da meno 20 gradi a più 60 gradi e come dimensioni abbiamo un metro e 22 per 65 quando è aperto o 50 per 65 quando è chiuso peso 3 kg e 6 ragazzi questo è un altro prodotto che si sposa davvero davvero bene con la vita da campeggio e per l'uso in barca per l'uso ovunque tu abbia necessità di alimentare qualcosa questo ti permette con la semplice apertura di questo strappo il posizionamento per terra ok inclinato verso il sole lui in automatico come abbiamo visto riesce a prodotti 100 watt allora ragazzi qui io al powers ok che sotto comunque in descrizione vi lascio tutti i link tutti tutti i link ok lui ls 200 che questo cos'è già lo abbiamo visto in uno in un video precedente ragazzi lui è un power bank ok con capacità di di 154 watt ora cioè 41 mila e 600 mila per ora una porta eccola qui sciugo 220 volt è un connettore qui per la ricarica bene cosa facciamo siamo in spiaggia dobbiamo stare un giorno oppure siamo in montagna due tre giorni in tenda cosa facciamo di giorno apriamo lui lo colleghiamo tramite gli innesti che ci hanno dato in dotazione il cavo qui e di giorno ragazzi ricaricherete le batterie del generatore solare portatile di sera cosa fai all'imbrunire stacchi perché loro non funzioneranno più ti ricordo 100 watt e stacchi e colleghi una lampada usb o ti colleghi lo smartphone per la ricarica poi notturna questo ti pare troppo piccolo si c'è un'alternativa c'è anche un modello intermedio però ragazzi questo qui è il modello più grande ok dove quello ti sembra poco sappi che esiste anche un modello da 4 100 watt però è più grande e più pesante giustamente ma ti produce quattro volte quello che ti produce il modello piccolo il modello piccolo viene dato diciamo in corretto con l'S200 o anche con gli altri generatori solari portatili con una capacità diciamo limitata ok perché giustamente i 100 watt per questo bastano e avanzano se invece tu hai la necessità di molta più potenza anche quando sei in campeggio vuoi far funzionare non so un piccolo frigo è un piccolo fornetto elettrico o qualsiasi altra cosa e questo tanto e non quanto ci sono i suoi fratelli quelli più grandi e quelli ragazzi potranno darti tanta tanta potenza sia come batteria ma anche come inverter perché questo a massimo 200 watt come carico a 220 volt perciò capisci bene che è un po limitato però per le dimensioni compatissimo e fatto anche bene guarda display ti indica tutte le potenze in gioco se per esempio vai a collegare smartphone ti dice gli smartphone quanto stanno consumando e puoi anche utilizzarli in combo cioè di giorno questo lo colleghi con questo e si ricarica la batteria ma in contemporanea puoi anche ricaricare gli smartphone ok perciò questo cabli con questo e ricarichi questo a sua volta ricaricherà il tuo smartphone tramite porte usb o in alternativa c'è la 230 volt che per esempio devi ricaricare il portatile prendi un caricabatterie di quelli da rete e lo ricarichi anche da qui o anche tramite una usb c usb c per esempio puoi anche sfruttare questa porta bene te lo voglio far vedere nuovamente in tutta ragazzi la sua bellezza al powers è una delle migliori oggi in commercio per quanto riguarda i prodotti portatili c'è le monocristalline ad altissima efficienza sono anche assemblate ragazzi molto molto bene non so se riesco a farvelo vedere a farvelo apprezzare questo non è vetro ma è una specie di plasticatura però resistentissima ip67 perciò può resistere anche sotto la pioggia i connettori resistono quelli di connettori elettrici resistono ovviamente anche alle intemperie e guardalo è una borsettina ragazzi davvero davvero ben fatto bene niente ragazzi per questo video è tutto io ti ringrazio per la visione iscriviti se non sei ancora iscritto ciao belli da fox da all powers è tutto ciao ragazzi al prossimo video